ancora voi altri due oh ma basta mamma ma non mi lasciate in pace porco cane tutto live che è questa questa è la fontana delle mattinate che ci veniva a fare io non passavo bevevo sempre comunque stavamo andando a incontrare sfera che ieri sera mi ha chiesto se facevo conoscere nonno e filiberto però poi per un contrattempo non dipende da nessuno è saltato tutto ma ci rifaremo sicuramente quindi eravamo belli gasati ma vabbè può succedere può capitare però poteva essere una cosa veramente figa una hit ma la rifaremo al cento per cento